Vuoi o non vuoi, anche se quest'anno di funghi non ce ne sono, la 49esima edizione della Sagra del Fungo a Camigliatello Silano in provincia di Cosenza ha fatto segnare un fine settimana all'insegna del tutto esaurito. Infatti sono stati numerosi i turisti presenti lo scorso weekend nella località turistica della Sira Cosentina in occasione di questo importante appuntamento. Quest'anno tantissima gente, una bella partecipazione, turisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Questo segno che appunto la Sira è attrattiva, è attrattiva per le bellezze naturali, per le ricchezze del sottosuolo, vedi i funghi e per le tante peculiarità e le tante prelibatezze anche culinarie. Quindi invitiamo veramente tanti visitatori a venire in Sira. Le manifestazioni si protrarranno fino a fine ottobre, quindi ci saranno diverse date con intrattenimenti musicali, partecipazioni diverse di artisti locali. E se quest'anno è stata l'edizione numero 49 della Sagra del Fungo, il prossimo anno, quella che è la sagra più antica della provincia di Cosenza, taglierà l'importante traguardo delle 50 candeline. L'anno prossimo la Sagra del Fungo spegnerà le candeline, perché sarà mezzo secolo appunto dalla propria nascita, quindi credo che organizzeremo un evento molto più importante, molto che darà visibilità a tutto il territorio. Stiamo cercando da alcuni anni di invertire i trend negativi del passato, promuovendo il nostro territorio. Ce la stiamo mettendo tutte e credo che queste bellissime immagini della grossa partecipazione di pubblico siano confortanti.